benedetto sia il dio e padre del nostro signore salvatore gesù cristo è ancora un privilegio un onore essere qua su parole di vita e nel nome di gesù cristo voglio benedire a ciascuno di voi che vi siete fermati per ascoltare la parola di dio e in questo momento appunto ti chiedo se possibile qualunque cosa tu stia facendo se sei a casa o se magari in un altro posto ma hai la possibilità di fermarsi un minuto io ti chiedo per favore fermati e assieme innalziamo ancora una preghiera al signore parliamo con dio perché come dico sempre la preghiera è semplicemente parlare con dio prega con me adesso nel nome di gesù cristo signore vogliamo benedire il tuo nome vogliamo ringraziarti signore per questa grande porta e cioè parole di vita che tu hai aperto affinché in ogni casa in questa nazione e in altre nazioni del mondo la tua parola possa arrivare gloria al tuo nome signore vogliamo benedirti perché tu sei meraviglioso vogliamo benedirti signore perché tu ci hai salvati tu ci hai redente signore vogliamo benedire in alzare il tuo nome e ringraziare per ogni famiglia per ogni persona signore che si sta fermando che sta cenando che signore è arrivato dal lavoro o chi sta facendo qualunque altra cosa ma in questo momento sta fermo ascoltando la tua parola noi benediciamo nel tuo nome gesù cristo e vogliamo ringraziarti signore ancora perché tu stai già parlando ad ogni uno di questi tuoi figli signore ad ogni uomo ad ogni donna in questa sera che sta ascoltando la tua parola sta ricevendo fede sta avendo la fede attiva nel loro cuore signore ti ringraziamo guida ti ancora attraverso la tua parola nel nome di gesù cristo nel nome di gesù cristo tu puoi dire amè lì gloria a dio benedetto è è il nome del signore e vorrei condividere con voi ancora il signore già sta parlando è attraverso la sua parola e nel mentre il fratello servo che parlava di ansi amministrava la parola anche lo spirito santo parlava nel mio cuore e noi siamo tutti in linea in questa sera amè vorrei condividere un messaggio che si trova nel evangelio di marco capitolo 7 dal versetto 31 in avanti sino al versetto 37 che dice così gesù partì di nuovo dalla regione di tiro e passando per sidone tornò verso il mar di galilea attraversando il territorio della decàpoli condussero da lui un sordo che parlava stento e lo pregarono che gli imponesse le mani misi le dita negli orecchi e con la saliva li toccò la lingua poi alzando gli occhi al cielo sospirò e gli disse e fatà che vuol dire apriti e gli si aprirono gli orecchi e subito gli si sciolse la lingua e parlava bene gesù ordinò loro di non parlare a nessuno ma più li vietava loro e e più lo divulgavano ed erano pieni di stupori e dicevano egli ha fatto ogni cosa bene i sordi li fa udire e i muti li fa parlare benedetto sia i nomi del signori e ben noi in questo testo narrato dall'evangelista marco incontriamo gesù che come accade spesso dopo che iniziò il suo ministero viaggiava da una parte ad altra cercando di compere mettendo in atto la missione che il padre lo aveva affidato gesù in una certa occasione disse un qualcosa di molto importante e che serve sempre di più a noi nel nostro tempo e cioè mio padre lavora fino ad ora e anche io alleluia questo fatto che Gesù quasi mai si fermava porta a noi un insegnamento che anche noi dobbiamo come già stato detto di anzi muoverci fare qualcosa fratelli ognuno di noi che riceviamo Cristo che intraprendiamo la via che è lui e gli stesso disse nel vangelo di Giovanni Giovanni lasciò registrato io sono la via la verità e la vita quando noi intraprendiamo la via iniziamo a camminare con lui noi dobbiamo fare qualcosa noi dobbiamo trasmettere testimoniare ciò che Cristo fa e fai e farà per noi oggi più che mai ve la necessità di smuoversi il fratello di anzi il servitore diceva che noi dobbiamo uscire e come disse bene fratello oggi noi abbiamo tantissimi mesi per muoversi oggi con un messaggio sui nostri telefonini sui nostri social possiamo arrivare ad altre parti del mondo noi noi e lo spirito santo in questa sera ci motiva ci scuoti a muoversi a fare qualcosa quanti di voi figli di Dio perché è così che la parola di Dio ci definisce sempre l'evangelista Giovanni lasciò registrato ma tutti quanti lo ricevetero dietro il potere di essere chiamati figli di Dio noi siamo figli di Dio l'apostolo Paolo se non mi sbaglio se non vado errato dice che il mondo attende la manifestazione dei figli di Dio come è che deve essere questa manifestazione è agendo è muovendosi è facendo qualcosa lo spirito santo sta stimolando sta motivando sta strilando a noi figli a fare qualcosa a muoversi Cristo ci ha lasciato un esempio oggi lo spirito santo ti parla tu hai capacità tu hai una testemunanza tu hai qualcosa da dire attraverso un messaggio tu lo puoi fare sui vari social che existono con le varie app dai tuo telefono attraverso una telefonata tu devi tu devi trasmettere la missione la grande commissione anche tu fai parte di essa e lo spirito santo ti motiva in questa sera lo spirito santo desidera scuoterti perché tu hai qualcosa da dire e lui desidera che tu faccia questo trasmetta ciò che tu hai ricevuto Gesù non si fermava Gesù andava di là e di qua e anche noi lo dobbiamo fare dobbiamo muoverci se hai la possibilità oltre a inviare messaggi oltre a trasmettere qualcosa di andare andare dove dove devo andare ci sono tantissimi posti da andare ci sono tantissime persone che hanno bisogno agli ospedali alle carcere per le strade dai senza tetto dagli abbandonati tantissimi posti e lo spirito santo ti chiama ma oltre a questo ci sono tantissime persone tantissime persone durante il nostro quotidiano che il Dio stesso porta a noi persone con problemi persone che hanno bisogno di guarigione la parola di Dio dice che Gesù sta insegnando una grande folla sta trasmetendo la parola ed è interessante che nel versetto 32 dice conducero da lui vedi qui c'era non della gente che stava facendo qualcosa che stava lavorando porta non a Gesù un sordo che parlava estendo che aveva grandissima difficoltà nel parlare alcuni li chiamano anche muto perché non riusciva a parlare e qualcuno porta a Gesù questo uomo che era malato che non aveva condizione di ascoltare e neanche di parlare qui ci sono due insegnamenti per noi il primo è appunto che noi dobbiamo osservare chi sta attorno a noi e che noi abbiamo le condizioni e la capacità di portare i malati a Cristo ci sono persone che verranno da sé a Cristo ascolteranno in qualche modo il nostro messaggio ascolteranno attraverso la radio attraverso un annuncio attraverso la tv attraverso i social e arriveranno a Cristo ma ci sono persone che devono essere portate a Cristo vedi qui c'è scritto condussero il sordo a Gesù questo uomo non aveva la capacità di arrivare da solo ma lo hanno condotto a Gesù qualcuno stava attento alla sua situazione di vita alla sua sofferenza al suo stato limitato e si offrì si è mosso per portarlo a Gesù ecco anche noi dobbiamo muoverci per portare le persone che sono ammalate spirituali le persone che sono ammalate nella loro anima non hanno la capacità da soli di arrivare a Cristo e ci vuole un intervento di qualcuno che si muova in compassione che si muova in amore che si muova in fede ah ma come come io farò questo e se qualcuno mi rifiuta e se qualcuno mi respinge ascolta lo Spirito Santo che è dentro te e che è con te è la garanzia di che la parola che uscirà dalla tua bocca di che l'invito che uscirà dalla tua bocca si moverà nella vita di questa persona ti solamente devi metterti a disposizione o quante volte lo Spirito Santo tocca nel tuo cuore parla a te vai da quella persona vai a quella famiglia avvicinati e magari tu non lo fai magari tu pensi che è un qualcosa dalla tua testa ma oggi il Signore ti sta parlando no figlio no figlia sono io sono io che ti parlo sono io che desidero usarti sono io che voglio fare vedere la mia gloria attraverso la tua vita oh non è più tempo di avere queste incertezze perché tu sei il Tempio la dimora dello Spirito Santo e come Gesù Cristo stesso nel Vangelo di Giovanni capitolo 14 14 promisi quando parla dell'arrivo dello Spirito Santo quando promette di inviare il sostituto e cioè lo Spirito Santo Egli sarà con voi e in voi tu non devi avere più incertezze perché lo Spirito Santo è in te e con te il mondo ha bisogno di persone che si muovano in compassione che si muovano in amore che si muovano in fede per portare le persone a Cristo e noi dobbiamo fare attenzione perché non sempre portare una persona a Cristo vorrà dire portare alla Chiesa se è importante portare alla Chiesa è certo che è importante ma a volte una persona riceverà Cristo in una piazza a volte una persona riceverà Cristo in un pulmo in un bus in un treno quando te che sarai mosso in compassione nel tocco dello Spirito Santo avvicinerà questa persona trasmetterà una parola a Rema una parola diretta a lei o a lui egli o lui e lei riceverà la parola egli tu avrà l'occasione di avvicinare quella persona a Cristo o quando tu farai una scena a casa tua inviterà qualcuno e quella persona in quella in quel giorno riceverà la testimonianza di chi Cristo ti ha salvato ti ha liberato ti ha guarito e lui vorrà avere questo avvicinamento e attraverso quella scena lui si avvicinerà a Cristo riceverà a Cristo o quando qualcuno ti chiamerà dopo aver ricevuto il messaggio che tu le hai inviato e dirà guarda questa parola ha toccato il mio cuore e lì tu avrai l'occasione di avvicinare quella persona a Cristo e certo e certo dopo ognuna di queste persone devono essere indirizzate in una casa nella casa di Dio ed è un compito tuo e mio anche aiutare in questo portarono il sordo a Gesù questo questo a noi parla di una realtà dal quale noi stiamo vivendo anche oggi dove ci sono molte persone sorde che vuol dire questo sono incapace di udire la parola non sono più in grado di udire i problemi il peccato la mancanza di speranza la mancanza di fede li ha fatti diventare sordi in modo che non ascoltano non sono in grado di ascoltare la parola di Dio la voce di Dio e qui c'è anche un altro problema ci sono delle persone che non riescono più a parlare e qui è un altro problema persone ferite talmente ferite nell'anima che non riescono a expressare ha mai trovato quella persona che lui parla ma non non riesce a dire neanche una parola sta sempre in silenzio parla estento parla pochissimo la sua vita è stata una vita così di tante ferite che lui non riesce più a parlare con gli altri che lui comincia a isolarsi a vivere sempre una vita di solitudine perché perché è stato deluso perché è stato ferito che Dio desidera usare me usare te per portare condurre queste persone a Cristo tu devi osservare dovunque tu vai le persone con cui tu hai dei rapporti che Dio porta a te perché fra queste persone possono esserci questi tipi di persone ma portano questo nome a Gesù e dice la parola di Dio l'Evangelista Marco che occorre anche qua un'altra situazione Gesù che stava dinanzi alla Fola prende in sordo e lo porta da una parola attendendo rispondendo alla richiesta che gli fu fatta di imporre le mani sui medesimi e anche qua c'è un messaggio per noi esistono miracoli esistono azioni divine che Dio farà su di noi su la chiesa su un figlio su una figlia che sarà dinanzi a tutti tutti vedrano tutti saprano ma ci sono delle sem dei sem dei miracoli che Dio farà che sarà da una parte quasi che quasi che nas costa come di nas costa solo tu saprai e che sa oggi lì dove tu sei adesso lo Spirito Santo sta operando in qualche modo nel tuo interior nella tua mente lì tu non sei lì tu non sei dinanzi a una persone ma magari tu sei da sola adesso lo Spirito Santo sta operando in te lo Spirito Santo sta operando nel tuo cuore lo Spirito Santo sta infocando la tua vita oggi e che sa lui verserà un olio su di te per guarire le tue ferite per guarirti oggi che sa lui lo farà la parola di Dio dice che Gesù porta questo sordo da una parte e anche lì occorre una cosa inusitata e cioè la prima cosa è che Gesù prende la saliva e tocca la lingua di questo sordo e muto e la seconda cosa è che Gesù mette le due dite nell'orecchio di questo sordo ascoltami bene se oggi tu andessi da un servo una servitrice di Cristo per chiedere una preghiera e lei o lui ti dicessi ascoltami lo Spirito Santo mi sta tocando e mi sta impulsionando spingendo a passare la mia saliva nella tua lingua tu a te tereste tu a te tereste che qualcuno spinto lo Spirito Santo infilasse due dite nell'orecchio fratelli ti voglio di una cosa e nostro Dio non lavora nella linea logica humana ci sono cose che Dio attraverso attraverso lo Spirito Santo ti spingerà di fare che non va nella logica non c'era logica passare e dito nella saliva e tocare la lingua tocare la lingua tocare la lingua di questo uomo non c'era logica infilare due dite nell'orecchio ma il nostro Dio non lavora nella logica humana e se tu non sei pronto per andare oltre la logica tu non potrà provare soprannaturale Dio ti sta qui amando oggi per andare oltre alla logica umana per andare oltre a ciò che è terreno alleluia Gesù infila due dite dentro l'orecchio del sordo e dichiara una parola rema una parola direta a lui è fatà apriti oggi oggi sta dichiarando emanando un rema su di te sulla tua vita perché ci sono persone che stanno ascoltando questo messaggio che è già un buon tempo che tu non ascolti la voce di Dio che Dio non ti parla direttamente a te e lo Spirito Santo mi sta spingendo a profetizzare questa parola sulla tua vita oggi è fatà è fatà è fatà e gli sta prendo le tue orecchie spirituali e gli sta prendo oggi il collegamento tra terra e cielo cielo e terra perché tu devi ritornare ad ascoltare la voce dello Spirito Santo che ti parlerà nell'orecchio che ti parlerà nel tuo cuore che parlerà la tua mente oggi lo Spirito Santo vuole sradicare ogni sorta di dubbio che ti viene non è la mia carne non è una cosa della mia mente è fatà è fatà oggi nella tua vita è fatà oggi nella tua mente è fatà oggi nel tuo cuore e li sta prendo oggi e tu ascolterai e avrai sicurezza è lo Spirito Santo che sta parlando è lo Spirito Santo che desidera comunicare con te che desidera usarti e alleluia benedetto è il nome del Signore alleluia e li sta ed egli desidera più che mai in questo tempo usarti comunicare con te tornarti abile ad ascoltare la sua voce il sordo dice la parola di Dio che è lo stesso momento la sua lingua fu sciolta ed egli comincia a udire a udire a Cristo a udire le parole di Cristo ed egli comincia a parlare il Signore sta dicendo tu ascolterai tu ascolterai figlio la mia voce tu ascolterai figlio la mia voce tu non avrai più dubbi che sono io che ti parlo che sono io che desidero usarti che sono io che ti invio per una missione tu non avrai più dubbi e tu la tua lingua e si perventura la tua lingua era presa tu non riuscivi più a trasmettere i messaggi a parlare a comunicarse oggi il Signore ti sta tornando habile per parlare per trasmettere la parola per trasmettere il Vangelo alleluia voglio finire questo messaggio dicendo a te il Signore conta su di te Gesù conta su di me in queste ultime ore della Chiesa in questi ultimi tempi per fare qualcosa voglio pregare con te e per te e voglio lasciare un invito per te che sei qui in Toscana veni a trovarti via Vitória Emanuele numero 46 Calenzano Firenze nella nostra sede se hai l'occasione prega con me nel nome di Gesù e il Signore sta aprendo adesso il Signore sta il Signore sta movendo nella tua vita adesso il Signore sta mettendo adesso alleluia e la mano e le mani nelle tue oreche il esbloquerà il esbloquerà il esbloquerà oggi tu che non riuscivi a audire la voce di Dio era insicuro avevi dei dubbi che era Dio e il Signore confermerà te e tu potrai essere e parlare con certezza con consapevolezza che è Dio che ti parla Signore vogliamo benedire il tuo nome vogliamo innalzarti Signore perché tu ti stai parlando perché tu ti stai spronando perché tu ti stai Signore scotendo per la necessità che c'è più che mai Signore di muoversi di fare qualcosa e io sto vedendo Signore che tu stai veramente toccando in alcune vite in questa sera tu stai Signore aprendo le loro orecchie Signore tu stai Signore toccando la loro lingua oggi perché questi tuoi figli a partire da oggi nel nome di Gesù Cristo io dichiaro questa parola saranno Signore abili per trasmettere la tua parola saranno abili Signore avranno la sicurezza che sei tu che stai parlando a loro le loro orecchie saranno aperte Signore finalmente ad ascoltare e a comprendere che è la tua voce che sei tu Signore Padre io ti ringrazio per ogni spettatore per ogni persona che ha ricevuto e sta ricevendo la tua parola e riceverà ancora poi Signore ti ringrazio per ciò che tu hai fatto e farà ancora in questa serata benedico Signore fratello Cataldo la sua famiglia ogni persona che lavora con lui nella regia nel nome di Gesù Cristo e ti ringrazio Padre perché so che ti ascolti sei con noi ancora nel nome di Gesù e vogliamo dire Amén